Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova giornata Noi siamo in ritardo come sempre Questa è la mia tenuta di oggi Che ho deciso di definire Royal Drama, si Oggi andiamo a vedere le cose un pochino Relativamente turistiche che non abbiamo ancora visto In realtà partiremmo da Camden La zona e il mercato di Camden E poi andiamo al centro e vediamo Buckingham Palace, Big Ben Eccetera eccetera E poi ci incontriamo con Chiara al pomeriggio Non so Alberto che fine abbia fatto però Era uscito per lasciarmi andare in bagno da sola Ma adesso non so che fine Abbia fatto E' tornato Hai firmato mentre facevi la cacca Certo che no Sei pronto per partire? Camden here we come I know the way that you think about me But I don't wanna know the truth I hear the things that they say about me But I don't wanna know the truth Don't you ever wanna run away Don't you ever wanna walk away Don't you ever wanna leave this place Cause I need you when the day's gone And I would change I would change for you I would break I break these walls too And I would change I would change just for you Degli uccelli ci hanno appena fatto a tutti addosso Grazie Adesso noi andiamo a mangiare Probabilmente con gli stessi uccelli per vendicarci Sono indecisa tra chesadilla Burger vegetariano E cibo sudamericano di white cucumber Mi piace la tua selezione Vedo anche un indiano vegano che mi tenta Ma devo andare a vedere cosa fa esattamente Una pizza Perché non hai mangiato assolutamente pizza In questa pizza Solo due pizza Non è niente rispetto alla mia statistica solita Grazie perchè So easily could break Don't you ever wanna run away Don't you ever wanna walk away Don't you ever wanna leave this place Cause I need you when the day's gone And I would change I would change for you I would break I break these walls too And I would change I would change just for you Allora noi abbiamo lasciato Camden che tra l'altro mi è piaciuto tipo tantissimo veramente Cioè prendetevi una giornata intera se potete perché ci sono 1300 cose da vedere E ho comprato un paio di cose che vi farò vedere nel Val di Londra Comunque adesso invece ci dobbiamo trovare con Chiara Che nel frattempo ci ha abbandonati Ci dobbiamo trovare qua a Waterloo perché andiamo a fare un alternante con lei Allora sarà carino fare un vero tè inglese Vero Alvin? Allora adesso ho portato Shanti a fare un'esperienza super british che è l'Uftermon tea che al contrario di quanto si pensa non è il tè delle 5 perché gli inglesi lo prendono anche le 2 però c'è tutta la torretta di cibo con i pasticcini, c'è lo champagne poi in più abbiamo una signora vista che adesso vi faccio vedere che c'è un po' il wow Chiara va a pasticci Prima spalmiamo la marmellata di fragole e poi ci mettiamo sopra un bel tocco di questa crema dietetica che si chiama Clottes Cream che è fatta con la panna e il burro e questo è lo scone Shanti e lo scone, scena prima, ciac Si taglia facilmente, questo è molto più complicato Shanti stravolge la tradizione e invece dello scone dolce ha scelto lo scone salato Shanti e lo scone Shanti e lo scone Ragazzi noi siamo andati a cena fuori alla Dead Dolls House con questo fantastico gruppetto Allora noi siamo le 9 superchicche, l'amora, la bionda e la lilla Aiutateci a trovare un nome per questo trio E' super... Gnope Ottimista lei Aspetta, ma che matcha leaves Ma che matcha leaves E' sicuro che non abbiamo avuto così tanto come sempre E' molto divertente 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 E' molto divertente